Celeste, 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 Cini, è proprio la 29, è proprio la 29, è proprio la 29, come ti chiami? Luana, che è un bel nome, cosa mi ricorda che non mi ricorda? Ascolta, guarda da dove vieni, Santa Croce, non saprai che bello della vita? Anche lui, anche lui, non si può dire cosa farlo, ascolta, l'uomo ideale non lo vuoi, l'uomo ideale si può tenere anche la testa, deve essere un uomo con la testa, allora guarda, serve tutto questo, se no sta alla casa, va a campare, capite? Ce n'è un altro sempre per la 29? Allora, la 29, dopo questa pubblicità, anche lui ha i due messaggi, complimenti...